Per te 12 fantastici fascicoli da collezionare. Corri al Benevento Store, al Bartabacchi Fratelli Collarile e al Club Benevento di San Giorgio del Sannio. In ogni numero 80 pagine di foto e interviste esclusive per rivivere gli ultimi 11 anni della strega. Hai tempo fino al 25 giugno per completare la tua raccolta giallorossa. Puoi recuperare anche gli arretrati persi. Benevento Calcio. Colleziona la tua passione. Grazie a tutti.